normale cos'è essere normale non capisco perché la gente ci tenga tanto ad essere normale essendo ragazzo di dieci anni è normale che mi piace il calcio i dolcetti i computer però mi piacciono le storie l'odore dei libri nuovi dei pop corn al cinema mi piacciono le storie di avventura di mostri e anche d'amore nelle storie non c'è niente di normale i personaggi ridono e piangono hanno ambizioni sogni traumi mi piace mettermi nei loro panni immaginare di vivere le loro vite gridare di dolore o sudare facendo l'amore con loro imparare dai loro errori mentre le accompagno nel loro viaggio e non sono per niente normali le loro vite sono comunque appassionanti non importa se sono carini grassi bassi ricchi o poveri o di un altro pianeta non ci sarà differenza perché durante il loro viaggio sentiranno la propria carne le frustrazioni l'odio e qualcuno perfino la felicità a me piace quando nelle storie ci sono sorprese o c'è tensione perché nessuno sa cosa accadrà quando volterò la pagina cazzo mi hanno scoperto non voglio essere come loro che deridono sempre gli altri non voglio essere normale sono abbastanza forte ed intelligente da sapere che le mie diversità sono anche le mie virtù fan culo la gente normale oggi ho deciso di essere un eroe ho deciso di vivere la mia storia la mia storia la mia storia la mia storia Autore dei sorrisi